Andrea Messa, qui a Piario c'è un bel campo in fiore. Sì, si tratta di un campo di grano saraceno nel pieno della sua fioritura che abbiamo seminato sempre come grani dell'asta del serio in rotazione a questo campo che è alle mie spalle, metà era a frumento e metà a segale. Siamo sempre nel demo coltivo di Piario, quindi a disposizione delle scuole per educazione didattica ma come si vede dall'estensione questo campo di grano saraceno è già un cultivo di per sé nel senso che una parcellina dimostrativa può essere di qualche metro, so 10 metri quadri, 20 metri quadri. Qui stiamo parlando di circa 600 metri quadri, del cui ricaveremo 4-5 quintali di grano saraceno e quindi siamo a livello di cultivo. Cultivo che, ripeto, soci dell'associazione grani dell'asta del serio stanno già portando avanti in dimensione molto più grande, per esempio a Cerete abbiamo un campo di quasi sette pertiche. In più abbiamo un sacco di, chiamiamoli aficionado, voglio citarne uno per tutti, tanto è un amico non si offende, l'architetto Antonio Gonnella che a Clusone ha voluto metter giù il suo 50-60 metri quadri, tanto per divertirsi e raccoglierlo. Però proprio stamattina abbiamo trebbiato su a Nasolino, con la trebbiatrice, i covoni di grano saraceno che aveva raccolto a mano a novembre dell'anno scorso. Questo covone nelle sue spalle? Non è un covone, perlomeno è un enorme covone, è un pagliaio, è un mini pagliaio. La paglia che abbiamo tirato su quando abbiamo ammiettuto a fine luglio, appena dopo Sant'Anna, quindi verso il 28, il 29, il 30 di luglio, il frumento, il grano valbona, l'abbiamo voluto raccogliere tutta la paglia e fare questo pagliaio. Perché cosa? Scopo didattico. Quando si dice cercare l'ago in un pagliaio, fate conto, andate a cercare un ago in questo pagliaio. I bambini l'avranno letto da qualche parte, avranno visto il disegno, ma non hanno mai visto un pagliaio. Questo è un mini pagliaio, un pagliaio vero e grande almeno dieci volte. Però, come si dice in Bergamasco, petoskenegot, l'me petost, ecco, questo serve a scopo didattico. E poi c'è il VA 33 delle Fiorine. Sì, è un grano turco che stiamo, diciamo, orgoglio e con buoni risultati reintroducendo. Naturalmente qui il CREA di Bergamo, quindi in particolare Paolo Valotti, è il motore di tutto questo. Perché? Perché senza i suoi consigli, senza il suo seme, senza la sua assistenza, non saremmo stati in grado di portarlo avanti in maniera così, diciamo, con dei risultati così buoni. E' ancora indietro, nel senso che le pannocchie saranno oggi a un'umidità tra il 30 e il 35%, dobbiamo aspettare e speriamo nel buon tempo che questo arrivi sui 24-23% e poi lo raccoglieremo a mano e magari porteremo qui una scolaresca che ci dia una mano sempre a scopo didattico. Aggiungiamo due informazioni proprio su questa tipologia di mais. Ecco, questa è una pannocchia che si vede chiaramente a maturazione, non è ancora pronta da raccogliere perché sicuramente la umidità, abbiamo detto, sarà tra i 30 e i 35%. Qual è l'indicatore? L'indicatore più preciso sarebbe togliere i grani e fare un misuratore di umidità, ma l'indicatore, diciamo così, un po' più empirico è la foglia che è ancora verde. Vedete che si sta seccando, il cartoccio è bello secco, ma la foglia è ancora verde vuol dire che la pianta sta ancora alimentando la pannocchia, quindi bisogna aspettare almeno dopo la metà di ottobre.